Un'attività imprenditoriale sospesa, una denuncia e sanzioni amministrative elevate per complessivi 27.820 euro è risultato di una complessa attività di controllo svolta dai militari del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Messina unitamente ai militari dell'Arma Territoriale nell'ambito di servizi finalizzati a verificare il rispetto della tutela, della libertà e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'attività ispettiva d'intesa con il responsabile della Direzione Territoriale del Lavoro di Messina ha riguardato le imprese del settore del commercio e altri settori puntando l'attenzione anche sull'uso non autorizzato di impianti di videosorveglianza. 18 le aziende ispezionate, i militari all'interno di un'impresa hanno constatato la presenza di un lavoratore privo di qualsiasi tutela assicurativa e previdenziale, insomma completamente in nero. Per la ditta è stata disposta la sospensione delle attività imprenditoriali avendo riscontrato una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% della forza lavoro presente come previsto dal testo unico 81 del 2008 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante i controlli il titolare di una diversa ditta è stato denunciato in stato di libertà per impianti di videosorveglianza non autorizzati.